Cercherò di spiegare in poco tempo quello necessario, una procedura tecchia. Innanzitutto riapertura. Quando mai le NAIAD sono state chiuse durante i cinque anni dal governo Marsiglio? Mai. Le abbiamo trovate chiuse, in abbandono e senza molte certificazioni. Il giorno dopo l'annuncio che le NAIAD di Pescara non chiuderanno, interviene il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo Sospiri, che con Marsiglio ieri ha dato la notizia. Sospiri parla di promessa mantenuta. Ora, tutto il mondo delle piscine è in grave difficoltà, perché piscina fa rima con costi energetici e sappiamo tutti che cosa è capitato con l'aumento delle bollette e prima ancora con la vicenda della pandemia. Quindi non è poi così semplice trovare un gestore, altrimenti non ci saremmo trovati in queste condizioni da almeno gli ultimi dieci anni. Detto questo, era impensabile che le NAIAD non riaprissero. Noi abbiamo attuato una procedura di legge che permette a colui il quale ha presentato un'offerta per la gestione ventennale, la cui gara terminerà il 18 settembre, di poter nel frattempo avere in gestione temporanea l'impianto e quindi provvedere alla sua riapertura. Poi termineranno i termini di gara il 18 settembre e vedremo quale sarà l'offerta migliore, se continuerà lui o se qualcuno gli subentrerà. Ci stiamo preoccupando, aggiunge Sospiri, di non avere i problemi che abbiamo avuto in passato dunque. Non escludo che la partecipata pubblica del Comune di Pescara, Pescara Energia, che ha già dato prova di grande performance nella gestione dell'efficientamento energetico, per esempio delle scuole, possa affiancarsi quale solo player tecnico, ma levando la parte sportiva, tecnica sportiva, organizzativa sportiva, del problema di come rintracciare sul mercato un player tecnico per abbattere i costi energetici. Allora io sono stato nella mia vita forse più spesso all'opposizione che in maggioranza e ho sempre fatto, per quanto possibile, una dura opposizione, fin quando non erano in discussione gli interessi complessivi. Della mia città, della mia provincia e della mia regione. Se non si fosse trovata una soluzione, non era una sconfitta dell'Abruzzo, del governo regionale, del governo cittadino. Era una sconfitta per l'Abruzzo e un danno per gli utenti. Quindi cosa dovremmo dire? Che quindi quando governava il centro-sinistra e le naie erano allo sbando, vuol dire che chi governava allora era un incapace? Io questo non lo posso dire e non lo voglio dire. Voglio dire che è difficile oggi fare procedure amministrative in una nazione che è molto particolare e in un segmento sportivo come quella della gestione delle piscine che è molto oneroso.